Parliamo della ricerca di lavoro, lo facciamo con io, lavoro, quali sono le figure più ricercate? Allora, le figure più ricercate in questa edizione sono sicuramente quelle del settore informatico, infatti l'edizione ha come focus skills digitali come cambia il lavoro, quindi abbiamo tantissime aziende che cercano varie figure legate allo sviluppo del settore informatico e del digitale avanzato. Quindi la domanda quant'è e da chi è rappresentata maggiormente? Allora, la domanda ad oggi abbiamo circa 5.000 opportunità di lavoro, non solo nel campo informatico ma anche in tantissimi altri settori. Le figure professionali più ricercate sono sicuramente quelle legate allo sviluppo di soluzioni web, app e gestione di sistemi complessi, queste sono le figure professionali che maggiormente il mercato sta ricercando in questo momento. E noi, come dire, favoriamo questo incontro tra le aziende che non trovano queste figure professionali e le persone in cerca di impiego in questo settore. Questi dati sono a livello nazionale o piemontese? Questi sono dati a livello piemontese. A livello nazionale la situazione è la medesima perché soprattutto con lo sviluppo del settore informatico dovuto anche alla pandemia, tra l'altro ancora in atto, ha accelerato questa trasformazione digitale dell'Italia intera che richiede ovviamente delle professionalità ben specifiche per poterla gestire ed affrontare. Ci sono segni di miglioramento sul padronale occupazionale sempre basandosi sul Piemonte? Allora, c'è una lieve ripresa per quanto riguarda l'occupazione e quindi man mano che si uscirà da questa emergenza sanitaria speriamo tutti che ci sarà una ripartenza. Ci sono fattori di incidenza come può essere sesso, età o estrazione scolastica? Noi abbiamo visto la precedente edizione che si è tenuta a dicembre che per quanto riguarda la componente di genere è praticamente paritaria, con una lieve predominanza delle donne come partecipanti. I contratti offerti tra l'altro dalle aziende sono sia a tempo determinato, ma ce ne sono tantissimi anche a tempo indeterminato, o con formule tipo apprendistato, tirocinio o altre forme contrattuali più flessibili. Però devo dire che il dato è abbastanza ugualitario per quanto riguarda il genere maschio-femmine.